Stalgo, come simbolo del mio esorcismo, sare benedetto, che è rontana gli spiriti marini. E speriamo che i demoni che sono entrati in questa casa, sono entrati in questa casa, con questo sare benedetto di cervia, che non entrino mai più. E lo stesso sare dello sposalito del mare, che ha salvato i pescatori da rata in pezzo. In questo caso deve salvare i sculturi bambini, questo simbolo del sare deve essere per tutte le case del comune, per tutti i municipi in cui questi orchi, questi stregoni e queste streghe non entrino mai più. Adesso una preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, dipendici nella battaglia. Sì tu, nostro sostegno contro la perfidia rinside del demonio. Che Dio eseciti il suo dominio su di lui, te ne preghiamo suppreghevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina ricaccia nell'inferno. Caccia all'inferno quindi tutti questi spiriti marini, o potente Arcangelo Michele, i quali erano nel mondo per prendere le anime. Amen. Ah, questo è il risorcismo di Papa Leone XIII. Eseguiti in nome del Altissimo Gesù Cristo, che è Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.